Perché siamo all'Università di Trieste? Perché in comune il PD e la Lega hanno Francesco Russo e Antonio Caligaris, tutti e due che lavorano, anzi lavoravate, all'Università di Trieste. Chi per un motivo, chi per l'altro, da un po' di anni che non ci siete, però insomma l'Università di Trieste sforna parecchi politici di carriera e di successo, visto come è andato per entrambi. Senti, siamo dovuti venire qua a pizzicarti perché ovviamente per un po' di giorni ti si rivede, Bruno Marini in vent'anni in provincia non l'hanno mai visto, a te invece almeno due giorni ti vedranno. Senti, tiriamo questo bilancio perché comunque a parte qualcuno nessuno ha stravinto con le preferenze, quindi ancora una volta si dimostra che le preferenze che si riescono a portare a casa, la famosa scritta è veramente un'impresa e quindi se uno le porta a casa veramente se le è guadagnate. Intanto per precisare che qua mi hanno visto per tutti i nove anni da sindaco perché da sindaco io ho continuato a lavorare all'Università come amministrativo, quindi non mi hanno visto nell'ultimo periodo solo per le elezioni, per la campagna elettorale, quindi adesso sono tornato. Hai fatto il bravo. Sì, sì, ho fatto il bravo, per nove anni ho fatto il sindaco e ho continuato a lavorare. Per quanto riguarda le preferenze, non è detto che nessuno ha stravinto, voglio dire, ci sono stati anche buoni numeri, anche nella Lega. Io sono molto contento del mio numero di preferenze, anche perché sono state conquistate proprio sul territorio, in tutto il territorio. Credo di essere stato votato in tutti i 25 comuni della provincia, quindi insomma io sono quasi incredulo, sono rimasto dal numero di preferenze fatte. È anche vero che far scrivere la preferenza, cioè il cognome sulla scheda è la cosa più difficile, veramente più difficile, perché tanta gente, penso, votando solo il partito, di darti la preferenza, abituati anche con le nazionali. Poi, secondo me, questo sistema di votazione con le preferenze è quello più giusto, perché lì si vede la preferenza per me in politica e nell'elezione è la meritocrazia. Ti aspettavi qualcosa di più da Monfalcone? Territorio difficile. No, non mi aspettavo, cioè comunque ho preso voti anche là, insomma, voglio dire, non mi aspettavo di più, insomma, non mi aspettavo tutti quei voti, quindi non mi aspettavo di più da Monfalcone. Senti, parlando un po' invece degli eletti, perché dopo tanti anni, è una delle poche volte dove l'area del territorio di Zontino sarà rappresentato da una pattuglia non di poco conto, anche a livello qualitativo, pensiamo a Bernardis, pensiamo a te, pensiamo a Romoli, pensiamo a veramente tutta una serie di persone che insomma hanno amministrato e che comunque hanno peso sul territorio. Gorizia, si sa, è sempre stata trattata malissimo da tutti, c'era la gara tra Gorizia e Pordenone per chi fosse trattato peggio. Ecco, da questo punto di vista, cosa volete dire a chi vi ha votato proprio perché è stufo di essere un po' cenerente, nonostante appunto il Coglio con le sue produzioni di vino, Monfalcone con la sua industriale, insomma rappresenta non poco a livello di P regionale. Beh, ma hanno scelto gli elettori, secondo me hanno scelto i migliori, questo è. Adesso cosa vi ho scusato per ripagarli? Hanno scelto quelli con esperienza, hanno scelto quelli che erano presenti sul territorio, la provincia di Gorizia, il territorio di Gorizia ha sempre, mi ricordo quando io ho cominciato 25 anni fa, 23 anni fa a fare politica, ha sempre sofferto di questa roba Gorizia-Monfalcone, io sono di Gorizia, io sono di Monfalcone, cioè siamo già piccoli, ci siamo sempre divisi e l'abbiamo sempre pagata rispetto agli altri, rispetto a Udine e Trieste che sono sempre stati più furbi. Credo che questa volta abbiamo la possibilità di fare diversamente. Senti, pensate di chiedere tutti quanti insieme a Federica che la provincia esontina abbia anche un assessorato che pesa, perché molto spesso Gorizia o non aveva propri assessori o aveva mezzi assessorati. Forse la vita all'ambiente è stato uno dei pochi casi d'eccellenza. Anche questa volta, adesso ce n'erano due, c'era Panariti al lavoro, quindi io credo che sia normale che, non so quali saranno le scelte di Massimiliano Fedriga, però io credo che sia normale che ogni provincia sia rappresentata. Qua Trieste scalpita, Udine scalpita e siamo sempre là. Esattamente, difatti tutti scalpitano, ma questa volta noi dobbiamo essere scalpitare per la provincia di Gorizia che abbia un assessore. Non Monfalcone, non Grado, non Gorizia, cioè tutto il territorio. Ultima domanda che si è collegata a Gorizia, l'inzontino sopra principalmente di problemi di sanità e di trasporti dove veramente il trasporto a pubblico e locale fa veramente schifo. Anche lavoro, no? Abbiamo dei problemi anche di lavoro. Tutti hanno visto che forse ci sarà qualcosa con la questione Eton, però questo credo sia anche una delle cose principali. C'è anche il problema di cui avevamo anche parlato del tratto Lizard villesse, quindi c'è molto da fare, c'è molto da fare, sì. E il bello è da dove cominciare? Piano piano, un problema alla volta, piano piano magari non si risolve tutto, ma almeno si comincia e si dà qualche soluzione.